Musomix torna al caos senza dubbio perché l'abbiamo fatto l'anno scorso e ci è piaciuta come esperienza e abbiamo capito quanto sia importante e utile per aprirlo ad un pubblico che magari non viene spesso al museo. Abbiamo quindi deciso di candidare il museo archeologico che è una delle strutture presenti nell'area del caos per cercare attraverso Musomix di farlo uscire da un ambito un po' specialistico nel quale rischia di essere confinato e anche per rafforzare una serie di relazioni già presenti in quell'area e che potrebbero ricevere un nuovo impulso dall'azione dei mixer. Musomix torna al caos senza ombra di dubbio trattandosi di archeologia Indiana Jones Le convinciamo a venire durante Musomix perché è un modo di fruire il museo inusuale, forse più vicino alle persone perché è fatto direttamente da quelle che sono normalmente utenti o persone che frequentano il museo e non da curatori, quindi è pensare il museo dal basso con le persone comuni e questo lo rende un luogo aperto e in qualche modo più facile, più divertente da visitare perché speriamo che i dispositivi, i prototipi che verranno pensati per l'archeologico attivino dei processi che non vengono attivati solitamente